Oggi siamo qui con Gianni Previdi che è autore di Social Media Mente per un marketing umanistico, il libro edito da Fasar Edizioni. Gianni, raccontaci un pochino di più sul tuo libro, perché l'hai scritto e com'è strutturato. A seguito delle mie attività di consulenza e delle attività seminariali che faccio nelle organizzazioni, ho a che fare spesso con amministratori delegati, direttori marketing, commerciali delle imprese e spesso e volentieri mi sento affermare, dire e lamentare tutta una serie di questioni che hanno a che fare con il modo in cui le aziende vivono oggi nei mercati e nei confronti soprattutto delle tecnologie. Ad esempio, le classiche affermazioni che sento fare sono ormai quello che conta è il prezzo, lo sconto disperato. Mi dicono, spesso hanno fatto questi manager, queste aziende, attività di social, di posizionamento nei motori di ricerca per rendere ovviamente visibile la propria impresa, i propri prodotti, ma alla domanda quanti clienti in più avete generato vedo molti tentendamenti. Non ultimo anche la problematica per chi ha degli store e vende quindi attraverso il retail, i propri prodotti, la non padronanza di quelle che sono le relazioni tra le persone che lavorano negli store, quindi nei punti di vendita rispetto a quelle che sono le loro relazioni con i clienti, quindi come sono in grado le persone di metabolizzare, di trasmettere, di far parte del circuito comunicativo del brand. E non ultimo la lamentela più classica è che quando c'è da tagliare il budget il settore marketing delle imprese è quello sempre più e per prima sacrificato. Ovviamente sapendo che l'azienda in questo modo non fa altro che ipotecare il futuro perché taglia il ramo su cui è appoggiata. Ecco, da queste esperienze, da queste riflessioni, da questi confronti mi è nata l'idea appunto di scrivere questo testo, che ripeto non è un testo di sapore né accademico ma nemmeno tecnicistico, ce ne sono centinaia in letteratura di testi che parlano di queste cose, ma un modo per aiutare chi guida la danza dentro le imprese a disegnare una propria strategia di marketing e di comunicazione che sappia far leva da una parte nell'utilizzo sapiente delle nuove tecnologie di rete, quindi delle nuove tecnologie digitali, ma dall'altra anche di quello che sono oggi i nuovi comportamenti dei clienti dentro questi social e dentro quindi le società nel suo complesso. Il libro, se posso proseguire, è organizzato in tre parti. La prima parte parte appunto dallo studio dell'evoluzione del linguaggio scritto e parlato, insieme ovviamente all'evoluzione dei media, quindi delle tecnologie, quindi a partire dalle tavole di argilla, caratteri cuniformi, tanto per intenderci, fino ad arrivare ovviamente agli attuali social media. Vi è una profonda riflessione sul senso delle tecnologie, sul senso dell'informazione, insomma per capire qual è l'impatto di queste evoluzioni dei media, delle tecnologie e quindi anche del linguaggio, rispetto a quelle che sono le nuove socialità che stanno nascendo, che sono oggi presenti per esempio nei social media, ma che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando nella dinamicità sia l'economia e sia la società. La seconda parte invece riguarda una profonda riflessione su come sta cambiando in modo strutturale il mondo. E dentro questi cambiamenti bisogna anche capire l'individuo nella sua socialità o nelle sue socialità. E quando spesso si dice a torto che ormai l'individuo ha perso la sua identità, invece va considerato che l'individuo ha assunto molteplici identità, che ad esempio troviamo una elegante forma nei social media, nel modo in cui la persona posta le sue riflessioni su una società, su un'idea, su un'iniziativa e quant'altro. Proseguo poi con l'argomentazione intorno al marketing umanistico. Perché marketing umanistico? Beh, per controbilanciare il marketing diciamo di natura anglosassone, urlato, militaresco, vi ricordate le famose frasi dobbiamo conquistare il cliente, dobbiamo massacrare il concorrente. E il marketing umanistico tra l'altro trova nella cultura italiana un retroterra culturale, pensiamo al rinascimento, molto importante per costruire appunto delle relazioni di marketing, di comunicazione, dove attraverso il marketing umanistico, usato sapientemente con le tecnologie digitali, è molto importante per andare a costruire strategie di marketing, processi di comunicazione, messaggi che sapino far leva sul gusto del bello, sulla eleganza, sulla genialità e la creatività tipica della nostra amata patria, per usare un termine un po' nazionalistico, fuori di moda. E soprattutto per andare a disegnare artefatti, quindi dei prodotti facili da usare, paradossalmente senza bisogno di libretti di istruzione. Facebook, come abbiamo detto anche stamattina, non ha bisogno credo di un corso master universitario per l'uso di questo SOSER e soprattutto anche dei servizi che siano semplici da usare, perché qui è la discriminante fra un fattore competitivo e un altro fattore competitivo e qui la semplicità è possibile ottenerla grazie anche al nostro retroterra, al nostro gusto, al nostro piacere di fare cose semplici e soprattutto offrire esperienze semplici. Proseguendo nella terza parte, a fondo diciamo il coltello sulla piaga, che è quella delle complicazioni che noi inutilmente e producono anche costi, ci siamo inventati insieme alla burocrazia per gestire queste complicazioni. Ora sai, se tutto fosse vissuto dentro l'organizzazione, una organizzazione è complicata, è lenta, subisce gli eventi, ma la cosa dovrebbe rimanere lì. Purtroppo l'organizzazione è inevitabilmente esposta in rete, esposta ai mercati, esposta nelle società. Quindi la prima cosa è che quando queste complicazioni, nati internamente in azienda, vengono esportate impropriamente sul mercato, quindi verso i clienti, il cliente ha una percezione ovviamente negativa o del prodotto o del servizio, perché? Perché è troppo complicato. E qui faccio l'esempio delle code alle casse nei punti di vendita. Imprenditori che fanno di tutto per vendere, soprattutto in questi momenti, poi trasmettono al cliente, nel momento più doloroso per il cliente, che è quello del pagamento, le file. E qui succede spesso che, per chi si occupa di neuromarketing lo sa perfettamente, che quando il cervello razionale prende il sopravvento, il cliente che ha appena preso la scarpa, la caravatta e la camicia, comincia a pensare che, tutto sommato, domani deve pagare una bolletta, domani deve fare un acquisto, domani deve pagare l'iscrizione all'università del proprio figlio, prende la roba e la rimette dove l'aveva presa. E quindi è una perdita di vendita, e quindi è una perdita di opportunità. E questo perché? Perché il servizio offerto al cliente era complicato, maledettamente complicato. E quindi non ha fatto in modo che l'impulso di acquisto, nato dall'innamoramento attraverso il cervello primitivo emotivo del cliente, ha preso, come dire, ha preso posto a questo, nel cervello razionale, proprio perché il momento dell'esperienza complicata ha reso, ovviamente, questa esperienza assolutamente negativa. E questo è un tema che va affrontato, io ho studiato anche fisicamente, empiricamente, diversi store, diversi grandi magazzini, per andare a studiare proprio nel dettaglio il comportamento di acquisto dei clienti. Quindi, come vedi, la tecnologia, la semplicità, le nuove socialità sono tutti temi intrecciati tra di loro. Devo anche dire che ho voluto, non a caso, mettere un'unica pagina colori nel libro, che è la mappa concettuale, proprio per dare una mappa di visione di tutti questi argomenti e come sono tra loro collegati. Benissimo Gianni, grazie mille per questa approfonditissima panoramica sul tuo libro. A questo punto mi sorge una domanda, a chi lo consiglieresti in particolare e a chi si rivolge? Beh, si rivolge sicuramente a chi dentro le organizzazioni ha a che fare con i processi di marketing strategico, ma anche marketing cooperativo e che si occupa di comunicazione. ma molto probabilmente credo sia molto utile anche a chi ha la responsabilità olistica generale dell'impresa, quindi l'amministratore delegato, il direttore generale, l'imprenditore stesso, ma anche perché so che è molto usato anche in diverse facoltà, anche per i studenti che studiano queste discipline, quindi la comunicazione e quindi anche il marketing.